Secondo te, così, a sensazione, che succederà nei prossimi giorni? Non ne ho la più pallida di te, accorazzissima, chi mi ha preso? Non lo so, che ti dico? Succede, ti faccio il pronostico sfigato, succede che quanti voti gli servono a Berlusconi? Non lo so, 300? Quanti ne servono? Non lo so neanche io. Non lo so, 315. Ok, 315, ne ottiene 315. Non lo so, che per mezzo voto, per uno sciancato che entra zoppicando, votando con la stampella lanciata così, pia la maggioranza. Pia la maggioranza, insomma, i voti e la fiducia. Dopodomani si potrà rendi conto. E quindi si salva un'altra volta. Ormai dico questo, anche in via scaramantica, perché ogni volta che si è sperato altro non è mai successo. No, pure questa cosa, capito, che tutti quanti ci si chiede a vicenda, non a me in particolare, anche a me, ma insomma, allora porta solo sfiga e basta. E i precedenti sono tutti quanti a favore dell'uomo, dell'uomo Silvio. Quindi anche, insomma, il 14 dicembre ce lo ricordiamo tutti. Lì aveva tutti i finiani che se ne erano andati, eccetera, eccetera. che esista fino a un minuto prima. Tipo? Ma non lo so. Stavo leggendo i nomi di questi venti. C'era uno che ha un cognome tipo Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Uno di questi PDL che se ne sarebbe andato. Stiamo in mano a questi. A traditori, semmai c'è anche l'ex ministro. Dov'è? Ci sarà un link qua alla lista dei traditori. 20 in fuoriuscita, vediamo. Dal PDL almeno 20 in fuoriuscita. Oggi Berlusconi che è intervenuto all'assemblea del movimento De Moffa. Ti rendi conto come sta combinato questo? Moffa, lo sai chi è Moffa? Berlusconi che stiamo a parlare di Pitelli. Oggi ho letto un nome bellissimo di uno che sta a prendere. Manuela di Centa. Per farti capire. Ieri i ribelli consideravano conquistata alla causa anche l'ex olimpionica Manuela di Centa. Stiamo nei mani di Manuela di Centa. Una che faceva sci di fondo. Bravissimo, attifato per Manuela di Centa. Ma posso stare a sperare che la sciatrice di fondo, Manuela di Centa, che io me la immagino vestita con la tutina. E' il limite mio. Ancora non riesco a immaginarmela. Il parlamentare possa far cadere il governo. Pensa, far cadere il governo Manuela di Centa. Che senso ha? Non lo so. E' entrata la società civile. Ah, perché il Parlamento ci deve andare alla società civile. E che Manuela di Centa che è? Società civile? E' calda, va. Sta in Parlamento dal 2018. Quando c'è entrata? Ancora che la società civile? La società civile. No, ma per carità, non c'è niente contro. Ma c'è società civile e società civile. Ecco. Ha scelto il fondo, faceva. Non si può dire che sia apparato dalla politica, no? No. Eppure sta là. Sta là e adesso speriamo che torni da qua, cioè da qua, che si svincoli dal caso. Non lo so, guarda, non so che dirti. Quindi previsioni non ne faccio perché non ne so fare e perché porta una sfiga a farne. Vai, altra domanda. Senti, hai visto... Pippo Gianni vacilla un fidelissimo della maggioranza come Pippo Gianni. Ma chi è Pippo Gianni? Io non lo... Ammetto, non so chi. Pippo Gianni, ti rendi conto. Eh, vabbè. Senti, ti volevo chiedere. Hai visto giovedì servizio pubblico? Sì. Che te ne pare? Cioè, sì. Facevo zapping fra servizio pubblico e piazza pulita. E che te ne pare? E questo pure a cazzeggiare online durante la smissione. Che me ne pare di che? Della puntata, di quella puntata lì? Di cosa? Sì, del programma nuovo, insomma. Dopo che è finito l'anno zero, hanno fatto questa cosa. Alcuni hanno detto che è andata bene, ad altri non è piaciuto per niente. Non lo so, volevo sentire come era sembrato a te. Allora, dal punto di vista formale della sperimentazione va sicuramente presa in considerazione il tentativo, insomma, no? Questo network, redi locali, web, Sky. Io, avendo Sky, la percezione mia è di poco cambiata. Nel senso che per me è un programma che è passato da Rai3 a Sky. Però so che c'è gente che l'ha vista su TeleRuma56, c'è gente che l'ha vista su, boh, non lo so, su altri canali. Quindi un cambiamento oggettivamente c'è. È un contenuto che viene sparpagliato, no? Su più canali. Poi c'era anche lo streaming, quindi. Come? C'era anche lo streaming, quindi. Credo che lo streaming ci sia anche per altre trasmissioni di altri canali. Ormai è una novità relativamente. Insomma, mi sembra che l'aspetto più nuovo forse sia proprio quello delle redi locali. Credo, eh. Non lo so. Sì, sì. Dal punto di vista dei contenuti, momenti molto fighi e momenti personalmente molto pallosi. insomma, diciamo, meno interessanti. Ecco, non vorrei essere offensivo assolutamente, però oggettivamente ho cambiato più volte. E complessivamente, forse puntata su puntata, alla fine mi è piaciuto quasi dei più formigli. nel senso che i primi servizi di Santoro erano molto fighi. I primi, insomma, quelli riassuntivi, insomma, alla Santoro, all'anno zero. Insomma, li sanno fa sicuramente, ecco. sono sicuramente efficaci, fatti bene, montati bene e tutto. E... Ospiti in studio, tipo della valle, quella parte lì, veramente, è una pesantezza rara. E... Travaglio. È travaglio, per cui ti può piacere o non piacere, ma te lo senti. Certo, se parla venti minuti, a un certo momento te perdi. Perché uno dice, eh, vabbè, ma non devi stare a vedere quanto parla, devi stare a vedere le cose che dice, figurati. Sono d'accordo. Però ne dice talmente tante, talmente gravi, che a un certo momento se satura proprio la te. Io dico proprio come efficace, eh, personalmente ho faticato, ho faticato un po' nella... nella seconda parte, a stagli appresso. Poi che c'era? Ah, poi c'era il personaggio culto della televisione italiana degli ultimi trent'anni, cinquant'anni, non lo so quanti, che è la Vitola. Ah, beh. che la Vitola lo metti a buongiorno regione, lo metti a, boh, non lo so, a un programma sulla prostata, dove lo metti, lo metti, lo guardi, perché è in assoluto, è fantastico, ne dice talmente tante che... Eh, la sua versione, in effetti è stata molto, come dire... No, è proprio bravo, io l'avevo visto con Mentana, dove c'erano in studio, c'erano Travaglio, Formigli, Bonini, Mentana, c'era il meglio del giornalismo, d'inchiesta, eh, e lui li ha rimbalzati tutti con una pagatezza, una tranquillità, cioè quelli alla fine erano sbigottiti, capito? Li ha narcotizzati proprio, e già lì mi era piaciuto tantissimo, e lì non capivi perché Berlusconi avesse fatto Ministro degli Esteri Frattini e non lui, anche se poi i più, capito, scafati dicono perché come Ministro degli Esteri ci vuole uno con la faccia un po' da tonto e invece quello vero lo metti dietro le quinte a fare il lavoro sporco, quello bravo appunto, la vitola, e questo pure è un'interpretazione. E poi da Santò è stato bravissimo, cioè che stava lì, che prendeva per il culo Santoro, Travaglio, a Lavagnetta, cioè una serie, l'operazione Mato Grosso, ne ha detto talmente tante che veramente, cioè era una vola continua, cioè proprio, alla fine ti ritrovi a quasi a tanti, fa per lui, fa, dinne un'altra, ti scordi che stai a vedere un latitante, che trovano tutti, tranne chi io dovrebbe trovare per arrestarlo, no, trovano tutti i giornalisti, se tu lo vuoi intervistare, quello se fa intervistare da te non c'ha problemi, capito? E poi ho trovato invece un po' poco interessante, se vuoi sbagliando, però, perché ormai è la meteorina pentita del Bunga Bunga, finale, che insomma, per carità va bene, e quelle, l'aminette nuda che si fa toccare, e la statua del Priavo col pisellone, che Berlusconi mi toccava il culo, insomma, però vabbè, era una delle tante già sentite, insomma, non è che abbia, e quelle già sentite mi sembra che per ora abbiano smosso poco. Dall'altra parte Formigli aveva un parterre di ospiti, scusa se ho usato la parterre, aveva, insomma, degli ospiti, cioè, interessanti, secondo me, di più di quelli di Santoro, Santoro c'aveva pure De Magistris, però, vabbè, diciamo che in generale, mi interessava di più seguire il dibattito fra Landini, da Milano, se vuoi, anche Ferrara, che è posto antipatico, però, cioè, almeno c'è una discussione in corso, e la segui, e c'erano i collegamenti di Formigli, i collegamenti servizi di Formigli, erano tutti quanti abbastanza da cose vere, insomma, nei posti, lì ho trovato assolutamente inutile, incomprensibile, tutta la roba di Ambra, la Castatio, tutta quella roba là, l'ho trovata veramente, boh, non l'ho capito, sinceramente, era una pubblicità più lunga per me, e poi niente, diciamo che tutte e due sono durate tre ore e mezza, quattro ore, cinque, non lo so manco io quanto sono durate, forse è un po' troppo in generale. Sono andati un po' lunghi, infatti, eh? Sono andati lunghi poi, infatti. Senti, ma per quanto riguarda la tua di TV, io ho una domanda di Simone, la mia che? di TV, diciamo, una domanda di Simone Corani, che mi chiede se starai ancora in TV oppure ti potremo seguire soltanto via web. Eh, se starò, non lo so, diciamo, non ho ufficialità, però, si dovrebbe essere vicini anche da quello che leggo, io poi alla fine ne so poco più di voi, eh, non credete che ci siano chissà quali comunicazioni particolari, tante cose ho sapute pure io da giornali, anche perché, insomma, le vicende legate alla mia ex trasmissione sono state talmente così improvvise, che hanno preso alla sprovvista anche parecchi dei protagonisti. comunque, diciamo che, ufficialità ancora non ce n'è, e qui stiamo come alla spallata dei Berlusconi, non sarò certo io a darne, sia perché non ce l'ho, sia perché porta sfiga pure qua, però, che si, che sembra, si vada verso qualcosa sulla sette, mi sembra che si possa dire, si dice ormai, insomma, non è un mistero, anche perché poi le possibilità ne che siano tante, le alternative, ecco, e, in quel caso, Simone, sì, mi si dovrebbe rivedere, poi, se ci si riesce in qualche maniera, ad andare prima facendo altro, ma bisogna avere qualche cos'altro da fare, insomma, diciamo che, ho riacquistato l'utilizzo del mio computer in pieno da circa una settimana, che mi si era sfasciato quest'estate, hard disk e tutto, e quindi, ho appena riacquisito, tutto il materiale girato da, da Pisapia a ieri, quindi, quindi vedremo qualcosa di tuo, sul tuo canale di YouTube, per tutto il ragazzo di loro, devo vedere se mi viene, se mi viene qualcosa con tutta sta roba, insomma, dargli un senso, ovviamente il senso deve avere pure un epilogo, l'epilogo non può che essere quello del martedì, che, però vediamo, insomma, al momento bisogna avere ancora un po' di pazienza, ecco, per la TV, per il web, boh, se uno c'ha voglia, cioè no, però ecco, farlo tanto per farlo, no, se c'ho qualcosa di, che mi piace fare, lo faccio. Bene, ti seguiremo con, attenzione come sempre, ovviamente, tolleranza a Zoro, anche perché sono cinque mesi che non c'è niente, appunto, da quando è successo il fattaccio del computer, no? Sì, no, l'ultima cosa l'ho messa da Manchester. Sì, sì. L'ultima cosa, vabbè, un po' in pesa diretta lì, quello col portatile che ci avevamo portati appresso, quindi era, era un altro, un altro computer, un altro, però insomma, tecnicamente l'ultima cosa è datata, che era, agosto, 9 agosto. Senti, Diego, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tema. Già fatto? Già fatto, sì. Ammazza. Gaston, vuoi ancora? No, no, basta che c'è.